e anche quest'anno è arrivato il tempo delle arance farinelli fresco market buon Natale a tutti, ben trovati a voi la festa di San Michele, il patro della città del reggae e con Caran, la banda musicale del reggae, Antonio D'Alecci offre un concerto per tutta la popolazione per chi può venire e anche per con noi, anche al Sande Ascomanzin, laureata in Clarinetti, al Conservatorio di Musica di Sassar ha conseguito la laurea di didattica della musica propedeutica musicale lo diploma accademico dei secondi livelli a didattica della musica strumentale e lo diploma di persuasionamento nella storia della musica e degli strumenti musicali attualmente insegna all'Istituto Comprensivo Latte Dolci di Sassari che la scuola ha in diritto musicale alla direzione della banda, il professor Mestra Franco Saio dire che la musica originale era di Joan Paes, ma si spaldura al 50 Rimbaud gli ha posato una nuova musica ma il titul messaggio legge, Lynn Algaris grazie 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 Shatala Tanim e tambi dosi interpretati della canzone Algarisa che si gara in accompagnati, vengara in accompagnati della banda musicale con la prima persona Ascomanzata a cantare i dati di Sincanza, ma le sue grandi passioni lo canto e la recitazione Taniva la guglia dell'era di Gigi Nolvao all'iglesia dei propri Ananchi di San Michele fin si apprezzati del gran numero di persone che andavano a ascoltarla per la sua espressività e disinvoltura sia nelle rappresentazioni sia nelle canzoni agli dati dei sette anni adesso cominciamo a cantare all'orchestra Arlem e all'inizio avevano anche altri musicisti, musicanti Antonio Cauca suonava il sax Luca Larillo Iuri Natale Leone alla tromba Nino e Antonio Cherchi Arfe Zanonica Mario Melisa al sax e Franceschichese Antonio Caffiero al contrabascio e la batteria lì era anche venerato per i anni e le sordi come cantante a numerose manifestazioni taldares soprattutto a festas di prazza amascosinze, ritte, pasqualino, camminando da lirgi voltanti come a repertori e le canzoni più famose della musica italiana a ver, furiamo a stare già ancora 4-5 fuls ma parlante a una falsura vendita e si chiesa un po' di cul dimmi due parole che ella che ella sempre vuol dire io sonara e minara amou sonse delle musica della banda sigare sempre a figlia e mara di aquella grandissima istituzione che è la banda musical di Antonio Calerda Lerchi Maria Dolores Silanos Maria Dolores Silanos Maria Dolores Silanos Baman musicale Antonio Dallici Dall'Gate Romy Raposa De Vittorio Dall'Erci Applausi Applausi Grazie. Tu s'esnare la primavera a un besol de maitè, con cantà la caldanera una flor s'espera a me. Per a me s'esasbucharà, s'escolta un sol al meu cor. Io t'ador, més d'una fara, i ara canto al tuo rapòs. Rami, raposa, raposa, mia bella, noia estrella, che l'io mi com' ma tu. L'uscaveste'ns deor, tes doliavis de foc, che m'allegra l'u cor, romi, raposa. Tu s'esnare la primavera a un besol de maitè, con cantà la caldanera una flor s'espera a me. Per a me s'esasbucharà, s'escolta un sol al meu cor. Io t'ador, més d'una fara, i ara canto al tuo nafòs. Rami, raposa, raposa, mia bella, noia estrella, che l'io mi com' ma tu. L'uscaveste'ns deor, tes doliavis de foc, che m'allegra l'u cor, romi, raposa. Grazie, grazie, Maria. Grazie, Maria Dolores. Vullo raccontar tambi un altro fet di Maria Dolores. L'han passat, ella sta a insegnare un premio, Caran, la banda musicale dell'Alghè Antoni D'Alerci, ha istituito un premio proprio al dia della festa di Santa Cecilia, la patrona dei musicali. i l'han passat, proprio la banda musicale, t'ho onorata da che espremiti, Maria Dolores Silanes. Grazie. Anima avanti. Amalgoran, amalgoran Pasqual Gallo, la furistera. Anima avanti. Grazie a tutti. 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 per... ... la passare... ... ... ... ... ... ... ...... 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 ... ... ...... ... ... ... ... ...... ...... ...... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ...... Corrì, Ocran, pura, non so che stai a moro in un progetto a Dio, a nostra storia e mi soli stai studi. Ma Bulgaria, pura, non so che stai a moro in un progetto a Dio, a me un'euro, non so che stai a moro in un progetto a Dio, a me un'euro, non so che stai a moro in un progetto a Dio, a me un'euro, non so che stai a moro in un progetto a Dio, a me un'euro, non so che stai a moro in un progetto a Dio, in un progetto a Dio, a teure, a Vio Tu m'ascoltarai D'aspetta che l'ascolta che c'avevo Vevo assi tristai ma l'incuniosa D'aspetta che l'ascolta che c'avevo D'aspetta che l'ascolta che c'avevo Vevo assi tristai ma l'incuniosa D'aspetta che l'ascolta che c'avevo 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 D'aspetta che c'avevo D'aspetta che l'ascolta che c'avevo D'aspetta che l'ascolta che c'avevo D'aspetta 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 che c'avevo Grazie a tutti. 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 Buonasera 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 a tutti. di fiducia, Giancarlo che sarà presente anche con noi per la settimana musicale a novembre per Santa Cecilia ma avevo pulato, come avevo dito degli sdosa, che c'è proprio una sorpresa questo è per te Giancarlo, con affetto grazie, grazie va bene, niente volevo anch'io ringraziare voi tutti per questa numerosissima partecipazione e perché comunque ci seguite tantissimo per tutti quelli che sono gli eventi la banda praticamente è un full time per 360 giorni all'anno di rifa o di rafa ci vedete un po' dappertutto cose belle, anche meno belle questa è una di quelle belle, perché ci siete anche voi grazie questo esperimento del concerto delle canzoni tradizionali ghiadesi è stato un po' una una scommessa una scommessa insomma che ha impegnato in primo luogo i componenti, la banda tutta me perché comunque ho curato gli arrangiamenti di quasi tutte le canzoni che avete sentito basandomi tra l'altro su alcune di queste ci tengo sempre è una cosa che la dirò comunque sempre ci tengo a dire che molte di queste canzoni che voi che noi abbiamo sempre il piacere di risentire di riascoltare sono sempre state opera quindi scripta manent del compianto Natalino Leone bravo giustamente volevo anche ricordare anche chi non è presente dei bandisti che non fanno più parte della banda ma voglio anche ricordare Nicolino Palomba che purtroppo per un motivo o per l'altro non è presente perché purtroppo è fuori sarebbe stato molto felice di partecipare anche lui un saluto a Nicolino grazie 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 Daniele grazie Maria Dolores allora puliamo avanti puliamo avanti e tanniamo ora e anche ma che è ultima che è un purpurì delle canzoni che sono alzegare original original ecco la banda musical Antonio De Lerci amo il professor maestra Francesco saìo saìo grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.